Opere d'arte a caccia di like, la Galleria Riccioddi di Piacenza punta su Instagram con nuovi video interattivi. Giunge infatti alla seconda edizione il progetto Instagram Dove Grò sta appunto per Galleria Riccioddi. Una serie di clip della durata di poco più di un minuto con protagonisti alcuni quadri più rappresentativi del Museo di Via San Siro. Un'opera ad esempio è questa di Giacomo Corosso, ritratta all'aria aperta. È un'opera fondamentale della raccolta ma ne vedrete tanti altri. Diciamo che in questi brevi videoclip vengono raccontata la storia dell'opera ma anche le peculiarità del dipinto in quanto tale. Perché si trova in collezione? Chi ha scelto di comprarlo? Come mai Giuseppe Riccioddi ha scelto di comprare un'opera piuttosto che un'altra? In questo caso noi abbiamo scelto un linguaggio molto social, ovvero un minuto, un minuto e dieci. È descritto in maniera semplice e nello stesso tempo che ti lascia la curiosità di approfondirlo magari con i tuoi strumenti. I video sono prodotti in italiano e in inglese e sono consultabili anche inquadrando un codice QR collocato in prossimità delle opere alla Riccioddi. È l'obiettivo di portare la Riccioddi fuori dalla Riccioddi in maniera tale che questi video possano girare, essere visti da tante persone che magari non conoscono ancora la bellezza di questa galleria. Fondamentale il sostegno del Comune di Piacenza, della Fondazione di Piacenza e Vigevano e dell'azienda Musetti.